Furious, battaglione Panoprion, 6-3 per i Furious, una partita però segnata anche dall'Umo in meno che caratterizza la squadra del battaglione. Bocchetti infatti aveva iniziato il match come prestito insieme ad Avolio, poi ha abbandonato i suoi compagni momentanei di squadra. Gioca anche il mister per quanto riguarda la squadra del battaglione, mister caratterizzato dalla non presenza dei calzini, anzi dei fantasmini. Masmini, Ciro, prolunga il pallone per Amoruso, controllato però dalla difensora, viene però il calcio d'angolo. Gli occhi, avevano le proteste, sorride Mangoni, autore di un autorete, per il gol, il secondo dei Furious, 6-2. Infatti il punteggio ha perso un po' di smalto dei tempi andati. Era un giocatore un po' di abbatte, Ciro all'errore! Avolio, dimostra di non essere un bomber. Sbagliato adesso il passaggio, il lungo rilancio, a cercare Ciro in avanti, Amoruso riesce a tenerla, ce la fa. Punta l'avversario, la palla che poi danza sulla linea dell'angolo. Savoia sorride, eccolo qui inquadrato. Savoia, ieri con... Da cosa hai rivestito? Argentino... Affinita di testa! Angolo! Non trova la via del gol. Ciro, ancora dalla bandierina. Stile che si marca il palo. Bellissimo, non look! Mangoni, il palo! Censuriamo. Se ci mettiamo un bip su quella parola, eh! Tamai, fanno lunga. Campoli di partita che ha poco da raccontare. La l'amercita da Tamai, però, perde il pallone. Tunnel! Dove chiamare lui? La parola è la fama che ho in questo momento. Fammi che attanaia gli arbitri. Proprio in questi orari è il numero di Ciro. Ne sopra tre. La rimette in mezzo, anzi no. Fa tutto da solo. Appoggia a Tamai, anzi no. Mister domestico. Mister domestico, però, comunque, ha il merito di lottare. Anzi, il culo, al primo tempo. Attenzione, domestico, vicino alla rete. Mangoni che più gioca, più acquisisce esperienza. Finita, rischia... Blu, non so cos'è successo, in verità. Blu. Laterale. Amoroso va in pressing. Siamo alla distanza. Lunga. Pisco carnevalesco. Carneazzalesco. Ciro potrebbe anche calciare. Buccio il pallone al servire Amoroso. Domestico. Baggio. Tamai. Amoroso. Amoroso. Ricordiamo anche che Amoroso nel primo tempo ha fallito 7-8 riti. A porta 8. Tamai. Ci prova. Con le manine. Riesce anche in qualche modo a tenerla in campo. Fondo. Ragazzi, giocate. Riconectila. La voglia si imbestialisce. Lungo rilancio a voglio. In giornata sì. Mangoni lo ferma. Già a voglio, vai. Bianca, bianca. Bianca laterale. Dei problemi anche uditivi quest'oggi le squadre. Come sempre direi. Lungo rilancio di Mangoni, poi interromperemo il nostro collegamento. Lungo lancio. Balla per Amoroso. Ancora. Ancora al volo. E gioco, che c'hai? La palla che fai voi di chi? La palla di ciù. Di fare gol solamente. Affinità. Allarga per Cerro. La mette sul sinistro, sul destro. Cerro, Cerro, Cerro. E' il portiere. Prende il pallone. Avevano le proteste dall'altra parte. Se quello invece di fare una cagata, tirava in porta e era gol. Cerro. Potrebbe servire affinità solissimo. Sul destro. Attenzione. Il tiro. Rimpallato. Amoroso. De Blu. Interrompiamo anche il nostro collegamento. Ciao.